secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ma con loro sono andata anche in sono andata anche in india top era una famiglia indiana questa che fai vieni con no eh sì va beh mi sono pagata però solo il viaggio alla fine perché poi lì la permanenza per lo più è stata a casa dei familiari io in realtà poi da sola con lo zainetto mi sono fatta dei giri per il triangolo d'oro mi piace viaggiare da sola in realtà mi piace andiamo nel backstage dal bebe i racconti dopo andiamo andiamo nel backstage dal bebe andiamo nel bec andiamo nel bec andiamo nel bec brü facciamo finta di essere ancora innamorati o ma c'è per sono tagliato i capelli c'è cosa devo fare circento gips quello che avete vissuto è vero vi sono vicino l amore è una delle forze grande può esplodere facendoci conoscere facce di noi stessi che mai avremmo pensato di avere l importante è rispettarsi non prendersi in giro comunque per me avete fatto grande impresa e avete vinto tutto in ogni caso da tela si più dolce comune grazie ricco a me piace sempre passare il tempo con lui rispondi al rospo in dm cosa vuole rospo no cap grande pepe grande pepe raga andiamo sotto il palco andiamo grande andiamo ciao ok ok Quando è che sono a sciva? Tra quanto? Sciva adesso, tra le otto. Alle otto, diciotto minuti. Quarto d'ora, un quarto d'ora. Buon arrivato. Grazie, una foto. Oh, grazie. Grazie, bello. Grazie mille. La sabra, ragazzi. Mi rompi il cazzo, ok, Al? Porco Dio! Porco Dio! Cazzo di al di merda! 3, 2, 1... Ah, lo chiamo! No, però adesso mi dici perché. Ma il mio utente in chat è che ogni volta che vede una ragazza vuole fare sta gag di merda. Era quello di mia sorella? Era quello di mia sorella? No, 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 no. Quello era Emanue Gaming. Ah, Emanue Gaming. Un attimo, ok. Ma scusa, l'hai rubato qua il cappellino dei Lakers? No, me l'ha andato... Ma qua? No! Quando è iniziata ad andare male nel vostro rapporto? Cos'è mica quando ti ho lasciato? Quando è che non si trova andare male, Nadia? Non è quando ti ho lasciato che non si trova andare male. Per te sì, va bene. Ma poi più vai avanti, più le paranoie sono sempre di più... Cioè, ed è sbagliato perché deve esserci un rapporto sano. Però se non si sanno risolvere i problemi, fin da subito, è normale che poi si porti tutto troppo alla fine. Cioè, poi tutto si accumula e vai... Cioè, la reazione non si può andare avanti. Ma posso spostarmi un po' in giro? Ok. Buona serata. Ciao. Ma fare una foto? Certo, caro. Dai, grazie. Ma come, io e te? Certo, io e te. Grande. Non ti credi, sono giovane pure io. È certo. Ciao TikTokers, vai. Let's go, vai. Non è solo per giovani. Hai ragione, ma è soprattutto per chi vuole sentirsi ancora giovane. Siamo lasciati in maniera consapevole di entrambi e stiamo bene così. Sì, sì, ciao, ciao. Andiamo via, va. Andiamo via. Ah, dove mangi il cibo. Qui mangi il cibo e tu fai domani, tu sei presente. Ma la colta il cuore. Ma la colta il cuore, va bene? Ma... Ah, questo lo fai a partire. Ma tu come hai scelto di diventare la manager di Marco Tomagin? Dai, chiedilo. Oh, è vero. Lisa, a me non importa se sei 08, nemmeno a GAM, basta che poi non chiami le guardie. È una battuta. È una battuta. Va bene, Dani, ti ringrazio. No, ti dico che io so che mi sento già... No, non tu. Certo non tu, gli altri. No, a me no. No, agli altri. Campolunghi, dovrebbe avere le manette. Anche Frantino si è provato con te. No, non, non. No lo so, ma guarda, no lo so, ma guarda